siamo con Andrea D'Azotto nel dopo partita della sfida contro il Molfetta Prato che vince dieci a cinque e dopo i tre a tavolino di sabato sono arrivate altre tre punti importanti che vi rilanciano in una posizione vicinissima al Follonica in piena zona playoff. Sì sono sei punti importantissimi per noi perché comunque con gli ultimi risultati non ci erano andati benissimo sì che nonostante tutto siamo rimasti lì erano punti fondamentali ora dobbiamo andare a Follonica una squadra che sta lì con noi nel giro di due punti e giocare la nostra partita che è fondamentale. Senti eh da un punto di vista del risultato dieci a cinque la vittoria netta alla fine però avete durato un po' fatica a battere questo Molfetta che è comunque escesso a Prato eh con l'intenzione di di fare la sua partita ci è riuscito voi partita a primo tempo tre a tre poi cinque a cinque poi quando avete dato l'accelerata finale avete allungato maniera decisiva. Ma sì è stata una partita dura io non non ho mai pensato che fosse fosse facile e loro sono venuti qua hanno con grande cuore alla fine hanno fatto la loro partita sono rimasti lì sempre noi si andava avanti e loro ci recuperavano credo anche un po' per demerito nostro forse che non si è fatto una partita splendida è stato fondamentale quei due minuti sono stati fondamentali sì per andare avanti e non prendere gol e quindi è andato bene. Senti tre punti come detto che vi rilanciano classifica e poi tra l'altro prossimo avversario sarà proprio il Folloni che adesso c'è un sabato di riposo e poi eh ci sarà appunto la trasferta in casa della formazione maremmana e sarà quella probabilmente decisiva per la conquista dell'ottavo posto in classifica. Eh sì è uno scontro diretto siamo lì e è importante credo sì i playoff sono un bel sogno però credo che prima dobbiamo guardare in basso e cercare di rimanere dove siamo e se possibile sì andare su.